Signor Presidente, io non solo sono indignato, sono sconcertato di fronte ad un Parlamento nominato per tre volte di seguito con una legge elettorale incostituzionale che vuole riformare l'intera parte seconda della Costituzione. La classe politica, che ci ha malgovernato da vent'anni, è imbrattato, ha svenduto, corrotto tutto ciò di cui si è occupata e d'ora addirittura la superbia, l'arroganza di stravolgere la Costituzione, la carta fondamentale su cui si basa la nostra comunità, il nostro stare insieme, per giunta, alleandosi con un pregiudicato che l'ha sempre calpestata, che l'ha sempre messa sotto i piedi. Ma non basta. Di fronte ai dati sulla recessione, la disoccupazione, la povertà, la crisi delle imprese e la corruttela dilagante, questa controriforma incostituzionale è addirittura indicata come la priorità per il Paese. Agli italiani che ogni giorno perdono il lavoro, dignità e speranza, il Presidente del Consiglio sta raccontando questa favola. Ora, non credo di aver sentito un solo leader di destra o di sinistra dire in campagna elettorale che il suo programma politico prevedeva di riformare quasi 40 articoli della Costituzione. Nessuno dei tanti imbonitori della partitocrazia l'ho mai detto. Quindi mi domando, chi ha mai chiesto a questi truffatori che dovrebbero rappresentare il popolo di manomettere la nostra carta fondamentale? Non certo il popolo. Qui dentro del popolo se ne fregano. Qui dentro i partiti usano il popolo solo per arricchirsi. Allora, chi glielo ha detto? Chi glielo ha chiesto? Forse per rispondere può esserci d'aiuto citare una notizia che ha fatto poco scalpore. Il 28 maggio 2013 la JP Morgan, storica società finanziaria statunitense, con banca inclusa, ha pubblicato un documento ufficiale dove ha candidamente scritto nero su bianco quello che i governi nazionali d'Europa avrebbero dovuto fare, liberarsi al più presto delle loro Costituzioni antifasciste. La JP Morgan, società tra le protagoniste dei progetti della finanza creativa, tanto da essere stata formalmente denunciata nel 2012 dal Governo federale americano come responsabile della crisi, scrisse nel 2013 e cito «I sistemi politici della periferia meridionale sono stati instaurati in seguito alle cadute di dittature e sono rimasti segnati da quell'esperienza. Le Costituzioni mostrano una forte influenza delle idee socialiste. Per colpa delle idee socialiste inserite nelle Costituzioni, secondo JP Morgan, non si riescono ad applicare le necessarie misure di austerity. In particolare, il colosso americano si lamenta per la presenza nelle Costituzioni antifasciste di esecutivi deboli nei confronti dei Parlamenti, di governi centrali deboli nei confronti delle Regioni, di tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori, si lamentava dei diritti dei lavoratori, della licenza di protestare se sono proposte modifiche sgradite, della licenza di protestare, Presidente. Credo che sia chiaro lo scenario. La finanza mondiale ha ordinato al Governo italiano di liberarsi della Costituzione e Renzi esegue. A mio avviso un Presidente del Consiglio ha due possibilità di fronte a un simile diktat. O dire la verità al popolo italiano, e cioè che abbiamo perso del tutto la nostra sovranità monetaria, se vogliamo riprenderci la libertà, dobbiamo uscire dall'euro per stampare la nostra moneta? O viceversa piegarsi al mondo della finanza? Renzi e il Partito Democratico evidentemente hanno scelto da che parte stare e non è la parte del popolo. Per dimostrarlo basta esaminare nel merito questa riforma e non mancherò di farlo. Prima però dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo cercare di capire cosa rappresenta la Costituzione. Perché tante persone hanno lottato e sono morte per una carta chiamata Costituzione? Le Costituzioni moderne sono il frutto delle grandi rivoluzioni borghesi del XVII e del XVIII secolo. Quella inglese, quella americana e quella francese in particolare. Tutte accomunate da un unico obiettivo, fissare dei limiti al potere sovrano. Secondo la prevalente ricostruzione storica, l'obiettivo primario del costituzionalismo moderno è stato e dovrebbe essere la limitazione del potere. La rivoluzione energetica dovuta all'utilizzo industriale della macchina a vapore da un lato. E la rivoluzione dell'informazione dovuta alla diffusione della stampa dall'altro hanno portato all'affermarsi di una nuova classe sociale, la borghesia, e a nuove correnti del pensiero politico-filosofico, individualismo, contratualismo, giusnaturalismo. Nasce così e si impone l'idea che esistono diritti inviolabili come la libertà e l'uguaglianza che nessun potere può calpestare e che iniziano ad essere scritti finalmente nero su bianco. Il Bill of Rights inglese del 1689, la dichiarazione di dipendenza degli Stati Uniti d'America del 4 luglio del 1776, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. I grandi uomini che guidarono quelle rivoluzioni tuttavia capirono che per garantire l'inviolabilità dei diritti che avevano scritto nero su bianco era necessario evitare la concentrazione del potere. Per questo Montesquieu teorizzò la separazione dei poteri, perché il potere limita il potere e l'unico modo per limitarlo è separarlo, distribuirlo. Nessun individuo o gruppo deve avere attribuzioni tale da mettere a repentaglio quei diritti, quei principi fondamentali conquistati con il sangue. La nostra Costituzione è pregna di queste conquiste e lo notiamo dalla solo struttura del testo costituzionale. Dopo i principi fondamentali, la prima parte si intitola non a caso diritti e doveri dei cittadini. L'ordinamento della Repubblica, cioè i rapporti tra le istituzioni, viene dopo perché il potere deve essere regolato proprio per garantire che quei diritti fondamentali non possano mai essere messi a repentaglio. Allora la domanda è, le riforme Re, Verdini, Boschi, Berlusconi, Renzi, come le vogliamo chiamare, garantiscono la separazione, l'equilibrio dei poteri? Questa è la domanda a cui dovremmo rispondere. E la risposta è ovviamente no. Il testo prevede un Senato non eletto dal popolo, ma dai partiti, senza alcun tipo di controllo da parte dei cittadini. I senatori dovrebbero rappresentare gli inti locali, si dice, ma non avendo vincolo di mandato, possono votare come vogliono, anche contro i propri territori, come già spesso purtroppo accade. In più, contemporaneamente, devono fare i consiglieri regionali e i sindaci, senatori che contemporaneamente fanno i consiglieri regionali e i sindaci. Capite bene la precisa volontà di non dar loro la possibilità di approfondire, di decidere liberamente. Saranno degli schiacciabottoni agli ordini della casta. La principale funzione del Senato sarà quella di chiedere alla Camera di modificare delle leggi, con un parere. La Camera potrà ignorare però questo parere del Senato semplicemente votando a maggioranza semplice e solo in alcuni casi a maggioranza assoluta. Ora, in un Paese normale, con una classe politica normale, questo meccanismo potrebbe essere garanzia comunque di condivisione delle scelte. Così purtroppo non è, perché la legge elettorale di Renzi prevede di garantire sempre a un solo partito la maggioranza assoluta della Camera. Lasciatemi una piccola parentesi, Presidente, non esiste un Paese occidentale al mondo con una legge elettorale che garantisca sempre un vincitore il giorno dopo le elezioni, cioè che garantisca la maggioranza assoluta alla Camera a un solo partito. Non esiste in Occidente. Chiedetevi perché. Quindi, con questa legge elettorale, un solo partito, che magari rappresenta anche solo il 20% del Paese o perfino meno, potrà decidere tutto anche contro la volontà del Senato, perché ha garantito la maggioranza assoluta. Pensate che potrà decidere e deliberare da solo anche lo Stato di guerra. Da solo un partito che magari rappresenta il 20% della popolazione o meno, potrà decidere di mandare i nostri figli in guerra. Voi direte d'accordo, ma almeno è ancora il Parlamento esercitare liberamente la potestà legislativa. Ebbene no, perché sarà formato non da eletti, ma da nominati, che se vogliono essere rieletti dovranno obbedire al Capo, cioè il Presidente del Consiglio. Se poi si considera che viene inserita in Costituzione la ghigliottina, è evidente che il Parlamento non conterà più nulla, deciderà tutto il Governo, sarà il Governo a decidere quali leggi devono essere fatte, in che tempi, chi voterà quelle leggi e chi potrà essere rieletto. Quindi viene meno la separazione tra potere legislativo e potere esecutivo. Voi direte d'accordo, viene meno questa separazione, ma almeno il rapporto tra Stato e denti locali resta improntato al principio autonomistico, sancito dall'articolo 5 della Costituzione. Beh, invece, con questa controriforma vengono anche meno le garanzie autonomistiche, riconosciute alle realtà territoriali. I padri costituenti dotarono gli enti locali di un proprio livello politico, amministrativo, finanziario, proprio per ridurre la distanza tra Stato e cittadino. Le autonomie locali sono state pensate per limitare, contemperare e sopperire il potere legislativo e esecutivo nazionale, secondo il principio della sussidiarietà. Questo meccanismo è regolato dalla parte seconda del titolo quinto della Costituzione e che queste controriforme vogliono completamente stravolgere per eliminare gli spazi di autonomia e accentrare tutti i poteri nelle mani di un solo uomo al comando che nessuno ha eletto. Con il neocentralismo renziano i livelli amministrativi e territoriali saranno svuotati da ogni funzione per far scivolare il Paese verso il barato dell'antidemocrazia, altro che antipolitica. Voi ci aditate come antipolitica, però fate l'antidemocrazia. Renzi di fatto sta applicando alla lettera il piano piduista di Licio Gelli. Ecco perché Forza Italia non può votare contro. Ecco perché i mangiatartine, come li definisce il Premier, cioè i più importanti costituzionalisti del nostro Paese parlano di riforma autoritaria. State mettendo a rischio la democrazia, state distruggendo tre secoli di storia della nostra civiltà. Siete complici, colpevoli e pagherete tutto questo. Ma non vi voglio dare la possibilità di nascondervi dietro false accuse al Movimento 5 Stelle di disfattismo, di assenza di contenuti, di essere solo protesta e niente proposta. Vi dico io come il Movimento 5 Stelle affronterebbe una riforma costituzionale e come l'ha di fatto affrontata con le proprie proposte. La prima cosa da fare è chiedersi cosa vogliamo. Se dobbiamo modificare la carta su cui si basa il nostro stare insieme, noi ci chiediamo quale deve essere la finalità di questa comunità. L'obiettivo per noi non è la dittatura mascherata da governabilità, l'accentramento dei poteri travestito da semplificazione, la soppressione dei diritti camuffata da stabilità. Quello che noi cerchiamo, ciò per cui lottiamo, è in ultima istanza la felicità dei cittadini. Noi lottiamo per portare speranza e felicità a quello che dovrebbero fare tutti in quest'Aula. E non è solo una bella dichiarazione, un'utopia per ingenui sognatori. Il rapporto tra democrazia e felicità percorre tutta la storia occidentale e ha dato nel suo cammino frutti politici, economici, sociali che voi fingete di non vedere, ma di cui io vi voglio dare evidenza scientifica. Già nel XVIII secolo Jean-Jacques Rousseau mise l'uno a fianco all'altro le dimensioni della democrazia, del dovere civico e della felicità. Nel suo contratto sociale del 1762 scrive «Nato cittadino non stato libero e membro del corpo sovrano, per quanto debole sia l'influenza che la mia voce può avere negli affari pubblici, il diritto di votare su di essi è sufficiente a impormi il dovere di rendermene dotto, felice ogni volta che medito sui governi, di trovare nelle mie ricerche sempre nuove ragioni per amare quello del mio Paese». Ma la relazione tra democrazia e felicità è un tema affrontato anche dai costituzionalisti dei nostri giorni, tanto che Gustavo Zagrebeschi arriva ad affermare, forse dal punto di vista della felicità e infelicità potremmo dire così. La democrazia è il modo più sopportabile di sopportare all'infelicità, il modo più umano, compassionevole, conviviale, in una parola mite, di organizzare l'infelicità dell'umana condizio riducendo al minimo le prepotenze, il disprezzo, la sopraffazione e soprattutto distribuendone il peso sul maggior numero possibile in una specie di mobilitazione generale delle umane imperfezioni. Le parole del Presidente Merito della Corte Costituzionale individuano la solida relazione che lega la felicità alla democrazia. Tale affermazione trova riscontro anche da un punto di vista empirico e i risultati di ricerche interdisciplinari su questa questione ne dimostrano la validità. Uno dei primi ricercatori, Presidente, ad occuparsi della tematica fu Putnam nel 1993 nella sua tradizione civica nelle regioni italiane, il quale rivelò una forte relazione tra senso civico, performance economica e l'efficienza della pubblica amministrazione. Lo studioso americano arrivò a dimostrare che nelle aree dove il senso civico è più alto, l'economia prospera e l'amministrazione è più efficiente. Ma l'aspetto significativo fu che per valutare il senso civico propose i seguenti indicatori affluenza referendum, numero di quotidiani letti e livello di partecipazione alla vita sociale tramite associazioni, club. Quindi più senso civico uguale più economia, economia più prospera, amministrazione più efficiente. Successivamente gli scienziati politici Müller e Seligson nel 1994 hanno dimostrato che non è la cultura, il senso civico che determina la qualità della democrazia, ma è il contrario. È la qualità della democrazia che determina un maggior senso civico, più democrazia uguale più senso civico e quindi migliore economia e migliore amministrazione pubblica. Non è il contrario. Siamo andati oltre con le ricerche scientifiche. Gli economisti svizzeri Frey Stazzer nel 2001 si spinsero ancora più in là e dimostrarono empiricamente il legame tra felicità ed economia, tra felicità e democrazia, integrando alla disamina econometrica istituzioni e scoperte della psicologia, della sociologia e delle scienze politiche. Nella loro ricerca andarono oltre la dimostrazione che le condizioni macroeconomiche, microeconomiche nella forma di reddito, inflazione e disoccupazione influenzano la felicità. I due economisti rivelarono che più le istituzioni sono democratiche e il grado di autonomia locale è elevato, più il grado di percezione della qualità della vita, di soddisfazione delle persone è elevato. Cioè, in conclusione, mentre, come insegna anche il paradosso di Easterling, la crescita della ricchezza personale determina un aumento della felicità personale solo in minima parte e solo fino a una certa soglia per poi decrescere, è una curva parabolica, le istituzioni che favoriscono un maggior coinvolgimento dell'individuo nella politica, cioè maggior democrazia, hanno un impatto sensibilmente superiore rispetto allo stesso denaro, mero denaro sulla felicità delle persone. Nella ricerca, e questo è ancora l'aspetto più interessante, gli indicatori di questo coinvolgimento dei cittadini furono la presenza dei referendum e dell'iniziativa popolare, le materie per le quali è previsto il referendum confermativo obbligatorio, il numero delle firme necessarie per chiedere una votazione popolare, l'assenza di limiti di materia per poter richiedere una votazione popolare e poi anche la presenza, e questo è un dato molto interessante, la presenza del referendum finanziario laddove c'è la possibilità dei cittadini di fare un referendum sulle tasse, l'economia di quel Paese, di quell'area, prospera maggiormente. Per questo noi, sulla base di questi dati, noi nel nostro programma politico abbiamo messo il referendum propositivo, all'estero conosciuto come iniziativa popolare, il referendum confermativo, il quale può essere obbligatorio o facoltativo, tutti rigorosamente senza quorum, perché sono i contrappesi che permettono di bilanciare l'azione degli organi dello Stato e che garantiscono la separazione dei poteri. Sono gli strumenti che consentono di realizzare compiutamente la sovranità popolare, qualora la democrazia rappresentativa non fosse più in grado di farlo. La crisi della democrazia non si combatte concentrando il potere, ma distribuendolo, ovvero restituendolo al suo vero detentore, il popolo, e nello specifico dando la possibilità al popolo di intervenire quando gli eletti non lo rappresentano più. È la cosa più semplice ed efficace del mondo, proprio come oggi. Nel 1945 Costantino Mortati, riferendosi allo Stato italiano, affermava, sorto da un'affrettata unificazione con il suo ottuso e rapace accentramento, parlava dello Stato italiano, con l'angustia del suo parlamentarismo che porta i partiti ad irretirsi nel gioco delle clientele, con il suo distacco dalle masse. Per superare questa impasse e per riequilibrare le disuguaglianze, Mortati proponeva che le istituzioni rappresentative dovessero essere bilanciate dall'intervento diretto del corpo dello Stato. Ora, dopo l'approvazione della Costituzione, nel corso dei primi anni di vita repubblicana, si convince sempre di più della necessità dell'uso del referendum come completamento e di integrazione della democrazia rappresentativa. Quello che chiediamo noi è integrare la democrazia rappresentativa con quella partecipativa, con quella diretta. Settant'anni più tardi, le tesi sostenute di Mortati sono state confermate da studi che hanno raccolto e analizzato le rivelazioni empiriche sugli effetti dei referendum senza quorum, non limitandosi solo alla sfera giuridica, ma coinvolgendo anche le altre discipline scientifiche. I risultati sono stati confortanti. Una normativa puntuale sui referendum e sull'iniziativa popolare priva di quorum aumenta la maturità politica del corpo sociale, permette di colmare il divario tra le élite e l'intero corpo elettorale. I cittadini sono politicamente più informati. Gli effetti sono notevoli anche sul sistema dell'informazione, ma soprattutto sulle modalità di confronto nell'arena politica, perché le campagne referendarie si distinguono da quelle elettorali in quanto un numero più elevato di contendenti si adopera perché il suo punto di vista renda recepito e si concentra su proposte specifiche per risolvere i problemi, non promesse astratte, proposte specifiche. E gli effetti sul sistema economico e sull'efficienza della pubblica amministrazione sono forse i più sorprendenti e smentiscono categoricamente coloro che criticano i costi organizzativi e logistici generati dalle consultazioni referendarie. Gli economisti, per esempio, dell'Università di San Gallo, Kirk Gassner e Lassfeld effettuarono un'analisi statistica sulle ripercussioni della democrazia diretta rispetto allo sviluppo economico, arrivando a conclusioni che non lasciano spazio di interpretazione. Constatarono che dove i cittadini possono utilizzare agevolmente lo strumento referendario in materia finanziaria, la performance economica è sensibilmente maggiore, l'evasione fiscale è sensibilmente ridotta, la spesa pubblica pro capite è inferiore, il debito pubblico è inferiore, i servizi pubblici costano meno. La conclusione dello studio fu che, in termini di economia fisica, tutto, tutto è a favore della democrazia diretta, nulla a sfavore. Basta dunque un semplice escursus sulla filosofia politica alla base della democrazia per annichilire il DDL Boschi Verdini, che trascinerà l'Italia in una deriva autoritaria dopo averne saccheggiato tutte le risorse. Questo provvedimento è il selfie del patto del Nazareno, il cui notaio è il Presidente della Repubblica. Serenzi pensa che nessuno in quest'Aula oppurrà resistenza si illude forse di trovarsi di fronte all'Assemblea del PD, dove è usuale che un manipolo di nominati si schieri compatto intorno al capobastone per paura di perdere la poltrona. Il Movimento 5 Stelle è pronto a lottare in aula e nelle piazze per difendere la democrazia e restituire la sovranità al popolo italiano. Ora, cari concittadini, è evidente che stiamo vivendo una profonda crisi, una crisi democratica ed economica. Ogni crisi è un'opportunità, il contempo è una sfida. Abbiamo le competenze ed il talento per superare le difficoltà e non farci sopraffarre. Abbiamo la grinta, abbiamo la stoffa per farlo. Quindi vi invito, con cittadini, a non cedere alla pigrizia e all'assismo. Loro, PD, Forza Italia, tutti questi vecchi sepolcri biancati, vi stanno dicendo con questa riforma di girarvi dall'altra parte, di tornare alle vostre occupazioni, di accendere la TV e farvi i fatti vostri. Vi stanno dicendo per l'ennesima volta di non preoccuparvi. Penseranno loro i vostri problemi. Finora non ci erano usciti per eccesso di democrazia, troppa democrazia ha reso difficile governare il Paese, ma da ora in avanti deciderà uno per tutti, il capo, e sarà tutto più semplice. Io vi prego invece, con cittadini, di non farlo, di non cedere, di non delegare ancora. Non si risolvono i problemi concentrando il potere, ma distribuendolo e favorendo la partecipazione dei cittadini. Spegnete la TV, leggete un buon libro, partecipate da un gruppo, un'associazione politica. Aprite le vostre menti e aiutateci a fermare questa manovra autoritaria. Avete ancora un grande potere. L'ultimo che ci rimane è il voto. Fate capire a questi pigiabottoni che, se si permetteranno di calpestare la Costituzione, sarà la loro fine. Noi faremo qui dentro il nostro dovere per fermarli. Come partigiani nelle trincee, voi lì fuori, fate altrettanto. Fate il vostro dovere come cittadini consapevoli che alzano la testa e che non si faranno mai più comprare da 80 denari.